Spalletti risponde Allegri. Credo che per loro sia molto più importante aveva detto Allegri parlando della sfida di domani e riferendosi al Napoli capolista. In conferenza stampa è arrivata la risposta di Luciano Spalletti che cerca di restituire un po' di pressione ai rivali in vista della sfida di domani, capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari. Ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Napoli, le parole di Spalletti Juve favorita, dunque, secondo Spalletti, che elogia il collega. Allegri, lui è il più bravo di tutti, ha vinto tanto, mi inchino al suo palmares. Io non ho confronto con lui, faccio parte di un altro livello di allenatore. Lui è quello che mi sta sopra e io ho da imparare da lui. L'allenatore del Napoli ha giunto, domani tutte e due le squadre giocheranno per vincere la partita. Sarà un grandissimo spettacolo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita senza perdere mai l'equilibrio. La considerazione che abbiamo nei nostri confronti è altissima. Inevitabile un passaggio sugli incidenti di domenica, chi usa la violenza deve restare fuori dagli stadi. Lo sport è dei bambini, delle donne e delle famiglie che fanno sacrifici per partecipare a uno spettacolo. Virgola